ciao ragazzi e ci siamo appena svegliati attenzione è la mattina di natale e guarda non ci credo guardate madonna santa tato dobbiamo andare a svegliare la vigna dobbiamo andare a svegliare per forza dai 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 buongiorno 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 la vigna la vigna è arrivato il regalo visto che ci scordi il nome la vigna si vogliamo andare ma tantissimi ma è incredibile dai 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 vai 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 andiamo andiamo guarda la figlia guarda qua ma chi ce l'ha messi ma donna ragazzi dai 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 apri apri va bene vediamo vediamo come vieni quelli piccolini che abbiamo anche troppo uguali wow è un contenitore mettene uno per l'altro vedi che si incastrano capito? oh questo è per il mio wow è troppo gigante questo è gigantesco questo è per il lavigno un attimo e tutte le pistole wow wow questa è bellissima questa è una gigantesca aspettacolo tutte le pistole wow wow ma questo è un fucile con un'altra pistola e un'altra piccolina mamma mia wow amicizzi è bello ahahah ahahah ma questo è bello qua la cacca ahahah ahahah amicizzi 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 sì due ne sono ne sono cento mamma mia aspettacolo allora nonno nonno guarda che è un nerf gigante sì ma fai a prendere per il mio il mio il mio il mio il mio allora che cosa scegliamo? ho tutti i regalini qua sì questo è un bel ma mamma mia io vi ricordo tutti i miei vai lavi 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 è un altro sì ahahah perché ce ne sono tanti questi oh no un altro fanno una torre gigante no una torre gigante è vero no no non c'è la mia guarda ahahah 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 questo vuole mettilo là sopra mettilo là sopra contato no 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 anche lì c'è scritto no wow come è uguale ahahah ahahah tu lo sai fa quanti lego possiamo metterci sai che possiamo fare lo fa? possiamo dividirli è un altro del colore sì un altro fanno un altro io un quale di quel vediamo tanto tanto così che vuole costruire no? giusto perché se va di genere insieme aspetta che si è morto che è morto ma non abbiamo ahahah ahahah guarda questo è grande niente un altro mettiamolo sotto mettiamolo sotto mamma mia che cosa ho visto è un monster truck Anna Anna che spettacolo papà questo lo metto qua c'è scritto ea e qua c'è scritto la vigna e gli altri questo è piccolino cosa sarà mai vediamo un po' cos'è? è una borraccetta dei riego sempre super che bello grande madonna la faccia sai cosa fai? con questa è una mascherina che te la metti in te no non credo sicuramente si mettono i colori no si mettono i colori è un contenitore qua c'è scritto la vigna è mia qua c'è tua è tua no 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 wow che ammazza ma papà Natale ti ha sentito quando hai detto che volevi la brum brum Italia la vigna 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 che ha detto la vigna la vigna super bello Ma che cosa c'è qua dentro? Questa è tu? Perché c'è scritto una X? Per, è per vuol dire, esatto, ma non è girato come quello, grande, ma questo è un pezzo amore, è l'agentare di spazio, ma la verifica, 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 è un pezzo amore, ma la verifica, ma la verifica è un pezzo amore, ma la verifica è una X? attenzione ragazzo spidey and the amazing guarda Giuseppe c'è lui 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 non lo so qua ma lui perché c'è perché c'è quella come fa non lo so è vero dopo vediamo vedi che qua c'è scritto un passetto una macchina e una centrale ma che cos'è il cavallo il cavallo ma il little pony che che voleva io va passare è troppo gigante è troppo gigante vabbè basta questi qua non li abbiamo più no dai se no non li abbiamo più no arriva Pasqua papà passa e apriamo tutti i regali li lasciamo qua? no no? allora qua c'è scritto per la linea e qua per Enea apriamo lì apriamo lì apriamo lì apriamo lì apriamo lì andiamo a averla e qua c'è scritto per la linea e qua c'è mamma mi ha un altro compito ma quante figlie hai adesso? prese guarda 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 eccola guarda guarda che te l'ho detto che c'era no non ho detto che c'era ho detto che c'era i miei regali chi te l'ha detto che c'era i miei regali? perché l'avevo chiesto ma l'avevi chiesto vedi scusa ma l'avevo chiesto ma l'avevo chiesto ma l'avevo chiesto sono centrale di spegno mi hanno chiesto a tutti i personaggi sì allora hai chiesto a tutti i personaggi sì ma l'avevo chiesto ma l'avevo chiesto qua c'era scritto per Enea ma cosa sarà secondo te? non ti chiesto ma l'avevo chiesto è uguale alla scatola degli avelli c'è in queste scatole ci sono solo gli avelli e non gli altri puoi essere altri qua c'è scritto per Enea ho detto Artman 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 noo bellissimo ragazzi ma questo ci mancava che spettacolo chi ti fa dire i regaloni? se gli avessi per saltare il bambino? che piacciono? che piacciono? ma amore tu hai la mia vita ma quanto sei tenera ma no ma è un po' qui no è morbido ma non è l'uomo guarda è un uomo formiga eh sì Enea oh hai visto che tapporato? ah avevo ragione ieri io è bellissimo ma c'è tre a me non è becchia forse magari non ha trovato Star Lord no forse io so perché perché forse l'ha dimenticato c'è un sacco che c'è un sacco che c'è un sacco? che c'è un sacco? ma c'è un altro sacco è mio no no è meglio che li tagli quelli oh un'altra testa un'altra testa un'altra testa oh un'altra testa che ricolori ah beh che bello cosa ho visto la vigna cosa ho visto la vigna mamma è come quella però è la sorella ma questa è l'alisa ha quel peggio la vigna la vigna questo è di chi è? vediamo un attimo per la vigna la vigna questo è tuo gigante guarda il pittu Enea ma cosa c'è stacca dentro? è troppo pesante Enea ti ho ascoltato papo natale ha portato la bambola di Prozem la vigna è lì la vigna deve venire subito è troppo pesante pesa un po' la vigna invece è la vigna è gli aiuti la vigna vieni che pesa un po' questo è un bottone è pesa di un bottone guarda che te ne ha calda la calda calda la calda calda no la cucina delle barbi adesso devi cucinare la vigna wow devi cucinare la cucina si la macchina adesso ho due macchine adesso ho due macchine pure l'altro bene Sì ma questa mamma è grande Enea guarda la dava bene è grandissima no questa è di Enea la mia aprile voglio sapere come va a fare questi legali che è difficilissimo ma come un po' qua a sapere che ci vuole di questa ma le fa qui nella fabbrica di giocattoli vabbè no però alcuni li diamo mamma 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 come c'è l'ha sì ancora vabbè ma questa qua cosa dici la ridiamo i trucchi di frutta la ridiamo indietro questa perché non è che la volevi ma non mi piace lo specchio io la volevo cioè io riservavo tutta la collezione di spai guarda la mia questo è per la vigna è la moto di Black Panther già c'è scritto qua è la moto di Black Panther guarda mamma mettila è la collezione mettila come on let's go come on let's go li lasciamo qua guarda adesso sono due guarda adesso c'è lei questa si è la vigna quella l'amica di di Miss Marvel no è l'amica di di oh ieri che cos'è che mi hai detto a colazione che volevi tutti gli amici volevi fare la collezione di spai non hai visto e secondo me qual'è cosa oh guarda questi buoni toglie e ma che cosa? che cosa? che cosa? quella che... mettili mangiate dentro per la... per la primaria ma mamma non ha cibo questa quella che ti dicevo ma è elettro femmina ma è elettro femmina si ma no ma mamma non vedi la collezione dov'è il mio? la colazione vede l'assetto vede un cibo e te lo mangio pizza la Mike non è il cibo lo tagliaglielo lo tagliaglielo no no eh metti lì non mangiare ma non serve per dividere ma non serve per dividere tu l'hai avuto oppure quello? no no eh la schicetta la schicetta si questo è sì si 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 wow ma questo è un cassetto questa è mia questa è mia questa è mia però questa è mia da babbo natale che è ricco e mia grazie wow questa che c'è? siamo uguali ancora i trucchi siamo uguali abbiamo uguali? ce ne abbiamo te l'altro no no questa è con l'unicorno invece quell'altro è con la caramella si buonanotte la schicetta la schicetta per te hai visto? mamma dammi quale cosa leggo oh nonna che bello ma tu li rovini tutti però è pure Pasqua l'angelo questi? e adesso vai a vedere gli affriccetti questi non mettiamo la vignatina borraccia ma perchè? magari non è una borraccia ma che è una borraccia la mia è di plastra l'angelo ma guarda i trucchi che è il frattino vieni amore dammi no non ce la fai tu l'angelo ok vieni no ah ecco la borraccia rossa questa vieni a vedere il frattacolo ma non è chiesto ma non è chiesto ma l'avevi chiesto che avevo chiesto qua non c'è scritto allora vai c'è una sorpresa una sorpresa ti aiuta nonna dai vieni ti aiuta ecco la propria super la propria la propria spettacolo la propria allora guarda 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 è il tuo carte carte guarda qua si è scritto per la mia città ammazza ma questo documento è difficile ma che bello vediamo l'avi wow è un cagnolino che bello 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 davanti ah no non c'è stiamo acero l'orto pongo Pongi Pongi Guarda, quelli te li ha completato in nome e nonno I pavetoncini e i pardorino E per voi Panestone A che gusto Vediamo tutte e due Allora, aspetta Tieni questo Come stanno allarmi? Dai, spera lì Allora Ah bello quello che non metti in testa E tipo tu devi mimare quello che è Ah super Dopo ci chiamo con la nonna e il nonno Sii Hai capito qual è? Si Per me papo Natale? Niente Prenditi un panettoncino Enea Io regali a mamma? Sono finiti Enea Dai l'ultimo regalo di Lavinia No, Lavinia ne ha due Enea è stato veloce Vediamo Nei sei spari e scaccia paura L'elefante che aveva paura del buio Il leoncino che aveva paura del dottore Scicero Un grado di concepts L'ipinchino E A B E Se empfante Miss Marvel Gig Ghost Buenos BoONE Couci Hero Super Papi Allora come siamo? Soddsfatto? Los Protoon Hay hai visto? qual è il tuo preferito? cosa? tu? dai! adesso andiamo a fare colazione? questo è tuo! bravo! grazie! e a me? questo è tuo! grazie! pandorino! vieni lavi! e pandorino! bene bene! e anche questo Natale è andato! oi! Tato! vieni qua! vieni qua! vieni qua! ragazzi anche quest'anno abbiamo scattato tutti i regali! mi sono piaciuto di no? qual è uno che ti piace di nessuno? tutti! 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 bene ragazzi se vi piaciuto questo video lasciate un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale! ciao!